Tra le proposte dell'amministrazione per ridurre l'inquinamento e rendere Rovigo più pedonabile c'è anche l'allargamento della ZTL. Cosa ne pensa lei come commerciante? Come commerciante diciamo che già molti clienti fanno fatica a venire nei negozi del centro proprio perché non trovano parcheggio o comunque bisogna parcheggiare più distante del solito perché non si trova parcheggio. Quindi secondo me il commercio in centro viene ancora più penalizzato in questo caso. Creare più posti di parcheggio potrebbe essere un'idea da fare, da realizzare prima di ampliare la ZTL? Sì, quello sicuramente. Dopo ovviamente per quanto riguarda le chiusure al traffico per certi tipi di Euro 2, Euro 3, Euro 4, quello ovvio insomma per quanto riguarda l'inquinamento. Però purtroppo il problema del parcheggio e della ZTL in centro c'è. Quindi se lo andiamo a ampliare diventa ancora più difficoltoso far lavorare il centro. Allargare la ZTL può essere una buona proposta per quanto riguarda la riduzione dello smog. Per quanto riguarda la proposta incentivante agli acquisti e al commercio lo trovo un palliativo nel senso che se il cliente non trova parcheggio nell'immediatezza come può succedere in altri posti, parliamo dei soliti centri commerciali, ovviamente fa fatica a fermarsi in centro, sia che la ZTL sia di piccole dimensioni sia che sia di grandi dimensioni. Perciò è un palliativo, l'importante prima di accedere al pensiero di una ZTL più o meno allargata bisogna pensare ai parcheggi. Bisogna aiutare le persone a parcheggiare in maniera comoda e soprattutto non vessarli se per errore o per incuria non arrivano a mettere il famoso ticket all'ora giusta senza essere aggrediti ed essere multati. Perché il problema delle multe qui a Rovigo è molto sentito. Io non sono d'accordo perché già la gente non trovando i parcheggi va alla fattoria o ai centri commerciali. Se noi limitiamo anche questa cosa non abbiamo proprio più nessuno in città. Quindi va bene così. I limiti che ci sono direi che sono già abbastanza in questo periodo. Guardate io ho due vesti. Una quella che sono un ecologista e la seconda è quella che ho un'attività commerciale in centro. Direi che sulla ZTL in via Badaloni e quindi questo allargamento della ZTL non sono d'accordo. Non c'è una situazione tale secondo me che bisogna allargare la ZTL anche a questa zona. Rovigo è una città strutturata molto male. Purtroppo il corso del popolo che prima era un corso d'acqua è diventato una strada che divide la città in due e quindi questo comporta di grossissimi problemi di viabilità che vanno risolti con tempi lunghi e con molta attenzione e valutando tante situazioni. Non si può di colpo dire adesso facciamo una modifica di questo tipo e poi ottenere dei risultati. Risultati che non ci possono essere se non c'è un progetto ben articolato tenendo conto di tutte le situazioni e di tutti quelli che vivono nella città e lavorano nella città. In rapporto all'ampliamento della ZTL il problema non sta solo nell'ampliamento che bisogna vedere come sarà fatto e se sarà fatto. Sta nel fatto di dover far rivivere il centro storico e tutto quanto perciò di conseguenza ZTL si può ampliare nel momento in cui offre i servizi sia di trasporti e anche servizi come negozi di ampliamento dell'offerta al centro storico. Comunque bisognerà sempre aspettare quello che sarà la decisione e come prima di dire positivo o negativo. Il vincolo di ampliare la ZTL non deve essere per forza visto in maniera negativa. Rovigo non è una metropoli, non è una città di enormi dimensioni ed è tranquillamente gestibile. Il nostro centro storico è raggiungibile tranquillamente a piedi con i mezzi in qualsiasi modo. Siamo pieni di parcheggi e pieni di possibilità di spostamento. Ovvio che cambiare una logica che fino adesso è stata quella di entro arrivo tranquillamente dappertutto non è facile. In termini di inquinamento sicuramente è una cosa importante perché stiamo andando verso una direzione per cui la parte dell'ambiente e dell'ecologia è molto importante. Ci sono molte macchine in tutte le città, si tratta un attimo di trovare la situazione più corretta e meno disturbante per anche i cittadini alla fin fine. Però sicuramente è una proposta interessante. Grazie mille. Prego.